Nome? Loris Cognome? Melis Età? 34 Città Natale? Geniale Che lavoro fai? Bartender Classico o freestyle? Classico Perché? Perché l'eleganza del classico non è uguale Il nome del locale dove lavori? Magritte e il solito Rolora Cosa ti piace del tuo lavoro? Tutto, contatto con il cliente, preparare dei cocktail, il badman in genere è un ottimo lavoro Hobby? Fitness Il nome del tuo cocktail Absolute? Absolute Summer Sensation Perché dovresti vincere tu? Perché sono un'ottima congiunzione tra il freestyle e il classico Cosa vuoi dire a chi ti seguirà su web? Votatemi perché sono un ottimo rappresentatore della categoria Che dire di più? Fai un saluto? Ciao a tutti, grazie, votatemi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.